Per rinascere l'Italia deve ripartire dal sud, così la senatrice Adriana Polibortone ha presentato a Canosa il nuovo progetto politico legato al movimento meridionale Grande Sud. Io continuo ad essere convinta che la rinascita dell'Italia unita, perché noi di Grande Sud vogliamo l'Italia che rimanga unita, non può che partire dal mezzogiorno che è ancora una macro regione assolutamente ricca di tante capacità, professionalità e possibilità di sviluppo, purché le si sappia individuare. All'interno del convegno tenuto a Loconia presso un'azienda agrituristica si è parlato della prospettiva nazionale della possibilità di rilancio dell'Italia attraverso lo slancio produttivo del sud, anche se qualche dubbio resta sull'ingarbugliata situazione politica. Noi come partito del mezzogiorno continueremo ad andare avanti e cercheremo di continuare ad avere relazioni con tutti quanti i movimenti che si interessano effettivamente del mezzogiorno d'Italia, anche perché sono convinta che in questa fase di transizione proprio i territori debbano contare più che la politica. La politica oggi abbiamo visto i partiti per meglio dire, abbiamo visto che sono ormai privi di ideologie, se dovessimo vedere i cosiddetti programmi del PD o del PDL più o meno si somigliano abbastanza nella teoria e purtroppo anche nella pratica dobbiamo dire. Quindi ripartire realmente dai territori e ripartire anche da quelle che sono le nostre regioni, perché purtroppo le regioni hanno dato pessima prova di sé. Quindi bisogna ricominciare proprio, se vogliamo esaltare le autonomie, dobbiamo ricominciare dalla politica regionale. A sostenere il progetto di Adriana Polibortone a Canosa, l'ex sindaco e consigliere regionale Andrea Silvestri, che ha sottolineato l'importanza del rilancio politico legato ad un investimento importante sul meridione. Si riparte dal sud perché noi riteniamo in questo momento fondamentale e prioritario ripartire dal sud, dal nostro territorio, dalle nostre ricchezze, dalle potenzialità della nostra gente. È un momento particolare per il Paese, ma io sono convinto che proprio ritornando alle nostre radici, riscoprendo e rilanciando il mezzogiorno, l'Italia può uscire da questa situazione di crisi. Per alcuni può essere un paradosso, ma per noi è proprio così.